Asbestas, la terra della discordia, è l'ultimo film di Rodrigo Sorogoyen, un talentuosissimo regista che questa volta ci porta in Galizia in compagnia di una coppia francese, Vincent e Olga, che si reca lì per ricostruire le case dismesse, abbandonate, diroccate, di antiche civiltà contadine, di trascorse civiltà contadine, per costruire appunto un agriturismo molto esteso e ispirato alle più avanzate linee ecologiche e quindi di rispetto dell'aria, dell'acqua, della terra, delle energie rinnovabili e quindi anche di una coltivazione, di un modo di coltivare e di avere un rapporto con ciò che si coltiva, è ispirato a un profondo rispetto reciproco dell'uomo rispetto alla terra e della terra rispetto all'uomo, quindi per esempio non sfruttano, secondo la logica dei contadini del luogo, appieno le potenzialità della terra perché per esempio introducono il concetto di riposo della terra, concetto già abbastanza diffuso, ma il film si gioca proprio su questo, cioè sulla diversità anche su questo, diciamo sulla diversità di livelli di comprensione, di livelli di evoluzione del discorso e quindi delle generazioni che culturalmente non riescono più ad avere molto a che fare l'una con l'altra. È un film impossibile per le mie ridotte cognizioni da risolvere e da analizzare pienamente in qualche minuto di video su YouTube perché è un film di una grandissima complessità. Avviso che non posso parlare di questo film senza fare spoiler perché gli elementi di tecnica narrativa sono molto importanti qua. Allora il primo diciamo che vede questa coppia arrivare come l'estraneo, il nemico che entra, irrompe, quindi c'è all'inizio un grandissimo senso di invasione di un territorio e di invasione di una cultura, di invasione, di violazione di tutta una storia che questo posto ha. Arrivano questi due che nessuno conosce, c'è che parlano un'altra lingua con un'altra cultura e che decidono di fare le cose in un modo diverso ma soprattutto votano contro l'installazione delle paleoliche di questa grande ditta norvegese. Perché votano contro? Perché loro ritengono che comportino un impatto devastante dal punto di vista ambientale ma soprattutto che i soldi che questa grande ditta norvegese darebbe ai contadini per poter mettere lì le paleoliche non sarebbero mai sufficienti per loro per ricostruirsi una vita in un altro modo. Questa cosa non riesce a passare e quindi c'è lo scontro fra due mondi. Attenzione perché la sensazione che abbiamo noi è che i contadini siano il mondo arretrato e che questa coppia di francesi siano il nuovo mondo che arriva, il che è in parte senz'altro vero, ma è anche senz'altro vero soltanto in parte. Perché le ragioni dei contadini sono molto virgola, molto ben sostenute e molto ricche, molto cariche. Allora qui c'è una prima questione che secondo me il film affronta in un modo magnifico. Costruire il futuro, progettare il futuro, mettere le basi per un mondo che cambia e che si evolve è sicuramente una cosa che si fa tenendo conto del passato. Non si può prescindere dal passato. Se da una parte non possiamo essere ancorati a questo passato, dall'altra dobbiamo però considerare che questo passato deve diventare parte integrante di questo futuro perché altrimenti questo futuro diventa violento come lo è stato il passato rispetto ai suoi precedenti. E cioè tutto quello che è ecologico in un modo meramente biologico, organico per il pianeta deve esserlo anche per i nostri percorsi umani, deve essere anche ecologico per gli uomini che su questo pianeta devono andare a vivere, per gli uomini che su questo pianeta devono trovare una loro continuità, abitabilità, sensatezza anche da un punto di vista culturale, anche e soprattutto dove magari la cultura è poca. Ciò che è ecologico per le piante ma non lo è per gli esseri umani va perlomeno ridiscusso e riconsiderato. E questa è una prima cosa che il film mette lì in un modo molto intelligente. Già capisci dall'inizio che qui non è un mondo di buoni e di cattivi per quanto i crimini vengano compiuti da alcuni e altri siano dei crimini le vittime. Però ci sono altri crimini compiuti ancora più anticamente e più ampiamente da tutta una società verso altre società più povere e di questi apparentemente non ci facciamo carico. Invece siamo gravati di questo peso e ci viene ricordato all'interno del film. Questo è un primo elemento che a me è piaciuto moltissimo. Poi c'è un elemento appunto di questa estraneità, di questa coppia che arriva in questo paesino tecnico, narrativo e cioè una struttura in butto. Loro arrivano, cominciano dei dissapori, delle tensioni e uno ha... Io avevo già il dispiacere intanto che lo stavo vedendo. Durante tutto il primo atto del film dicevo peccato perché guarda qui c'è una capacità di racconto delle umanità, dei personaggi, delle tensioni interiori, delle relazioni così fine, così ampia, così cinematografica che mi dispiace che si sia infilato in un imbuto che lo porta per forza lì. Cioè prima o poi si ammazzeranno, finirà in un bagno di sangue, finirà in una macelleria. Questo rapporto che inizialmente sembrava poter reggere su un faticoso reciproco rispetto, diciamo, al limite rispetto. Bene, sono molto felice di essermi sbagliato, di essere stato superficiale, presuntuoso, è vero, perché ritenevo di capire e di non vedere altre uscite, meno male, e il cinema è fantastico per quello perché così imparo con le mie previsioni antelittere a dire sì però peccato che andrà a finire lì. No, sbagliato. Questo film apre con una mossa veramente a sorpresa che ti fa cadere dalla sedia, soprattutto se tecnicamente segui il filo della sceneggiatura. Perché? Perché uno dei must più semplici e più elementari a livello di sceneggiatura è che la storia è sempre la storia di qualcuno, se è una storia, no? Non entriamo in quel campo lì, però diciamo che è una storia. Se è una storia è sempre la storia di qualcuno, se è la storia di qualcuno non è mai la storia di qualcun altro. Questa è una cosa che io mi ritrovo a dire spessissimo agli allievi. Il problema è che questo film fa una grossa sorpresa e a un certo punto fa una rotazione di protagonista. Si sgancia una storia e ne comincia un'altra. Eppure queste due storie vanno insieme come se fossero una storia sola. Ma in realtà c'è una rottura centrale proprio. Il protagonista della prima parte è Vincent che imposta l'azione, dà l'azione, tiene il drive di tutta la trama per cui è lui che decide di continuare a stare lì. Lei vorrebbe andare via, vorrebbe abbandonare perché la vicinanza è troppo faticosa con questi vicini che continuano a fare dispetti sempre crescenti, sempre più gravi al campo, alla proprietà, alla quiete di questi due. E lui invece decide di restare, di dare battaglia, comincia a riprenderli mentre lo minacciano, fa tutta una serie di cose. Finché naturalmente paga con la vita. Il problema è che quando loro lo ammazzano nel bosco io sono un po' rimasto così. Ho detto ma gli manca ancora mezzo film? Cioè adesso che fa? Perché ha sfilato il protagonista. Ed è chiaro che se il protagonista è colui che manda avanti gli eventi, quando il protagonista non c'è più la storia è finita. Invece la protagonista diventa lei, che decide di restare. E qua il film diventa bellissimo. Non che prima non lo fosse, perché anche lui col suo acting, tra l'altro, dà un enorme contributo alla bellezza estrema di questo lavoro. Comincia a diventare lei. Lei che, anche lì, pensavo ancora una volta di aver capito, una volta che hai capito che la storia andava avanti con lei, diceva ok, adesso lei troverà il suo modo di farsi giustizia. E invece non è così. Perché lei non ha così tanta fretta di farsi giustizia. Lei è una madre a sua volta e la figlia va lì a trovarla. E la figlia si mette a guardare i video che aveva girato il padre su questi vicini, alla ricerca di un appiglio per incastrarli. Perché è chiaro che sono stati i due vicini, questi due fratelli, con questa madre anziana, ma sono stati i due fratelli a uccidere il papà. E quindi lei vuole la prova, vuole denunciare, vuole farsi giustizia. Qua c'è un altro grande tema del film, che ho trovato meraviglioso. Il problema è che il conflitto tra queste due donne, madre e figlia, rispetto a quest'uomo, il padre, è un conflitto anche tra generazioni. E le generazioni hanno questo senso diverso delle cose in questo film. Cioè la madre, mentre la figlia le dice, sei molle, allora prendiamo e andiamo via, ma se stiamo, stiamo per denunciare, stiamo per incastrarli, per metterli dietro le sbarre, perché questi hanno ucciso il papà e tu te ne freghi. E invece lei non se ne sta fregando, lei sta girando e gira per tutto un anno i boschi. Cerca tracce di quello che deve essere capitato. E in facendo questo, lei convive con questo dolore, convive con questo lutto, convive con questo danno. Non ha così fretta di farsi giustizia, ha fretta di comprendere che cosa è accaduto e dove e come. E questa ricerca in mezzo ai boschi è il suo percorso nel suo dolore. Non avere tanta fretta di farti giustizia. E' come se lei dicesse alla figlia. Perché la giustizia che ti vuoi fare riguarda i colpevoli. La giustizia che ti vuoi fare mettendo in carcere quelli che hanno fatto del male al tuo papà, mio marito, è una giustizia che riguarda loro. Non esterralizzare i costi di questa esperienza. Pagali tu. Perché il problema è, non pagali tu, nel senso paga tu la colpa al posto loro. Non è questo il punto. E' che se tu hai tanta fretta di scaricare fuori, sotto forma di rabbia e apparentemente di giustizia, tutto quello che è capitato, tu salti il fosso dell'attraversamento di questo lutto, che comunque è per te, che col quale devi comunque fare i conti tu. Il papà, il marito, non c'è più. E' stato comunque ucciso. Ora, un conto sono i colpevoli. Ma soltanto tu puoi dare a te stesso l'uscita da questo dolore. Non la punizione di altri. Perché questo è lo stesso, è la stessa logica che ci porta a lottare per avere ragione. E loro hanno ragione, ma la figlia ha ragione. Ma avere ragione non è aver compreso la verità dentro di te. Non sono sullo stesso piano. Tu hai ragione, ma non hai fatto esperienza di quello che è capitato. E allora qua è veramente bellissima e magnifica questa parte, in cui questa donna a un certo punto augura alla figlia di trovare una persona che ama. Questa figlia ha già una figlia, cioè Olga è già nonna. Però è nonna, ma il marito, l'uomo, il compagno di questa figlia, a lei non piace. Lo battezza abbastanza brutalmente, insomma, e battezza la loro relazione abbastanza brutalmente. E le dice, io ti auguro di trovare una persona da amare. Ti auguro di incontrarla, veramente, perché tu non stai capendo cosa vuol dire. Amare una persona vuol dire poi, quando questa persona non c'è più, accettare tutto il dolore che deriva dalla perdita di questa persona. E attraversarlo tutto, non fare finta, non scaricare su altro. In più, il tema della verità è un tema complesso, perché che io non sono in grado di affrontare per come meriterebbe. Mi vengono in mente alcune cose. La verità non è un'invenzione, la verità si scopre. Tu puoi decidere di cercarla, quanto cercarla e come cercarla. E anche quanto a lungo cercarla. Non puoi decidere né se né come trovarla, né nella misura in cui la troverai. La verità si scopre, non dipende da noi. E a noi questa cosa fa diventare matti, perché noi vogliamo giustizia. Noi vogliamo pareggiare il conto. Siamo molto tesi all'esterno. E invece questa madre, nella sua grandissima sapienza, direi questa vedova più che altro proprio, sta nel percorso di passo per passo, nel ritmo delle stagioni, nel ritmo delle coltivazioni, nel ritmo dell'attesa, nel tempo che deve passare, perché è una cosa di affrutto. Perfettamente inserito questo discorso in una realtà contadina, che è la realtà di cui lei ha poi deciso di far parte. Decidere di rimanere a sentire tutto quello che andava sentito. Con questo credo che sia uno degli elementi forti proprio del film. Un altro elemento forte che mi ha molto colpito è quello delle donne. Perché il marito è morto, il padre è morto. Dall'altra casa, accanto, ci sono i due fratelli con la madre anziana. Due fratelli che hanno ucciso il protagonista, il primo protagonista, diciamo. Rimangono solo le donne. Perché? Perché quando lei trova la prova, l'evidenza del fatto che lui è stato ucciso lì, quando lei trova la videocamera, e la videocamera non è più leggibile, la scheda non è più leggibile, ma questo basta a muovere la polizia perché vada nel luogo a cercare, anche qua è un discorso importante che poi riprendo, lei va dalla famiglia accanto e dice voi andrete in prigione. E poi vuole parlare con la madre. E alla madre dice i tuoi figli adesso andranno in prigione. Rimaniamo io e te. E qua c'è la battuta più bella del film. Che cosa vogliamo fare? Che cosa vogliamo fare adesso? Andiamo avanti con la guerra? E questa è veramente l'idea ecologica sul futuro. Che facciamo? Della memoria che abbiamo del passato. Come lo integriamo, questo passato, nel futuro? Ma torniamo a quello che stavamo dicendo prima. Lei trova una videocamera, la videocamera non è più leggibile, però questa videocamera trovata segnala il luogo alla polizia, dove può essere accaduto quello che è accaduto, e la polizia va e finalmente trova il corpo. Finalmente, come dire, la prova e la verità emergono. E questo è meraviglioso perché è molto sottile. Perché è il vero raccolto di lei. È il corpo del marito. La vera cosa che la terra restituisce è il corpo del marito. Che cosa vuol dire? È la verità. È la verità che finalmente è pronta a essere compresa. E quando la verità è pronta a essere compresa, è molto bello che lei non trovi il corpo ma la videocamera. Perché la verità si fa strada da sola. Ci va anche la polizia e la polizia procede. E la polizia trova. Se vuoi farti giustizia subito come la figlia, non c'è tempo per niente di questo percorso di scavo, di analisi, di approfondimento dentro di te, di che cos'è veramente il danno che hai subito. Lascia perdere il rancore verso quell'altro che c'è, ma lascia perdere. Non fare che quel rancore impedisca a te quest'anno di ricerche e quest'anno di approfondimento dentro quello che riguarda il tuo percorso. Allora lei, quando scopre la verità, quando è il tempo che la verità venga fuori, che la terra la restituisca, quando è stagione, no? Per dirla alla contadina. Quando è stagione della fioritura della verità, stai tranquillo che la verità arriva da sola. Non c'è problema. Il che vuol dire che potremmo essere molto meno agitati, secondo la logica di Olga, anziché esserlo di più, secondo la logica della figlia, e attendere i tempi che si compiono in noi per comprendere quello che è veramente accaduto. E quando questa cosa viene compresa, la giustizia poi arriva. Ma a quel punto è una giustizia diversa. È una giustizia che è giusta anche per chi la riceve, nel senso di produttiva anche per chi la riceve, in forma, come dire, di onere da restituire per quello che si è fatto, come modo e momento per comprendere quello che si è fatto. Io vi consiglio davvero di andarlo a vedere, come al solito, di parlarne molto insieme, però questa volta credo che sia un film di cui si potrebbe anche parlare con se stessi, nel senso che qui sono i giri dolorosi che toccano inevitabilmente a ognuno di noi, che possono essere ripresi e riconsiderati in questa nuova luce. Buona visione, buon cammino.